L'assenza all'iniziativa di Saione Mob di domenica scorsa e oggi in un consiglio comunale ancora in forma mista, cioè con chi è in presenza e chi in collegamento da remoto, tra cui lo stesso sindaco Alessandro Ghinelli, riporta all'attenzione il tema della presenza fisica del primo cittadino in città, spesso criticata dai banchi della minoranza e dagli stessi cittadini. Anche oggi il tema è stato posto. Sì, io dico purtroppo ancora questa modalità mista perché vorremmo, e l'abbiamo chiesto più volte, tornare alle sedute ordinarie pre-pandemia, quindi con tutti i presenti qui in aula, sindaco, assessori, consiglieri, a discutere e a prendere decisioni importanti per la città. Purtroppo anche oggi, per l'ennesima volta, nonostante lo stato d'emergenza sia concluso, il nostro sindaco ha ritenuto opportuno non presentarsi in aula e nel suo ufficio, quindi a poche decine di metri, forse meno, dalla sala del Consiglio, ma secondo me, secondo noi, questo è un gesto di totale mancanza di rispetto nei confronti dell'istituzione Consiglio Comunale e anche dei cittadini. Quindi vogliamo e chiediamo di nuovo che il sindaco, nei prossimi Consigli Comunali, sia in presenza con noi a discutere. Questo non inficia, secondo il suo vice, Lucia Tanti, il buon funzionamento della macchina comunale in questo secondo mandato. Secondo me sta andando bene, rispondo in onestà intellettuale, nel senso che il secondo mandato è un mandato che costruisce il futuro, è un mandato in cui si tirano le somme, è un mandato in cui si guarda gli anni molto lontani ed è un mandato dove non si pensa a se stessi. Quindi è un mandato più generoso del primo, se vogliamo. La discrasia su Sayone, tra l'altro, a me mi è dispiaciuto moltissimo. In realtà sì, dovevo andarci io. Poi sono dovuta andare, ed è stato straordinario, a Sarajevo per la manifestazione degli sbandieratori voluta dal nostro ambasciatore e dalla sindaco di Sarajevo e quindi siamo stati a quel punto poco capaci di organizzare le agende. Quindi c'era l'assessore Scapecchi e questo anzi dimostra una cosa, visto che si vuole fare una riflessione politica, che questo è un sindaco che lascia i suoi assessori molto liberi, molto presenti, molto attenti e dà a loro lo spazio che si meritano. In realtà è un sindaco che c'è molto, noi siamo vicini di casa perché siamo con le stanze attigue e anche stamattina vedo polemica inutile perché sì, non è in aula, ma è a 20 metri perché è dalla sua stanza. Quindi mi pare che questa sia una giusta anche riflessione che i cittadini hanno il diritto di fare, poi i cittadini hanno sempre ragione, però insomma poi ci sono i fatti e ci sono le interpretazioni. I fatti è che il sindaco c'è e c'è pesantemente. Le interpretazioni poi non solo sono libere, ma sono anche molto singolari.